Nuova stretta e misura anticontagio più severe in Italia per contenere i contagi da Covid-19. Per le Marche, il Governo ha confermato la zona rossa per le prossime due settimane. Il dato preso a riferimento è quello dei 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Rimarranno validi, dunque, i divieti attualmente in vigore. Gli spostamenti sono consentiti solo con l'autocertificazione per motivi di lavoro, salute e necessità. Chiuse le scuole, collezioni interamente a distanza, bar e ristoranti rimarranno aperti solo per l'asporto e le consegne a domicilio. Saracinesche abbassate invece per tutti i negozi, ad eccezione di quelli di prima necessità. Chiusi anche barbieri, parrucchieri e centri estetici. Un ulteriore giro di vite è previsto per Pasqua, che sarà blindata con una zona rossa nazionale da sabato 3 aprile fino a Pasquetta. Inoltre, rimane attivo fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni, perché prorogato dal Consiglio dei Ministri. Stiamo attraversando la fase più difficile dall'inizio della pandemia, ha commentato il governatore Francesco Acquaroli. Se l'anno scorso l'impatto è stato fortissimo, oggi si aggiungono stanchezza e esasperazione, senza considerare gli effetti di natura economica sulle imprese e sulle famiglie. È stato un anno difficile, ma dobbiamo avere la consapevolezza che questa lunga attraversata con la somministrazione dei vaccini ci sta facendo intravedere una nuova fase. Ad oggi, nella nostra regione, su oltre 176 mila dosi ricevute, ne sono state somministrate più di 163 mila, il 92,5% del totale.